Questa è la corazzina, quella che usano i bambini, quindi come potete vedere sono di sicurezza che hanno il caschetto. Loro non possono colpire, hanno il caschetto solo per una questione proprio di sicurezza, però loro così piccoli non possono colpire sulla maschera. Possono colpire qui, possono fare tutto, le proiezioni, poi saranno gli albi che comunque a tenere sotto controllo tutto. Adesso facciamo una piccola dimostrazione di quello che di solito si fa sia in palestra che poi per le gare. Non avendo un altro bambino faccio io il bambino. Bravo! Grazie a tutti. Immaginate a vedere i bambini come dei garelli che saltano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.